Non ti interessa niente! Allora prendo veramente sei provvedimenti! Ora ti rompo tutte le cose! Alla baita spaziale! Che che dov'è? No papà! Che che dov'è? Non mi rompere! Non mi rompere, non mi rompere! Non mi rompere, non mi rompere! Che che non mi rompere! Perché questo? Questo? Eccolo qua! Questo è il namorato! Cariella! A te la casa!